Buongiorno a tutti quanti voi cari amici di Barba Biancorossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque vigilia di Frosinone Bari, ricordiamolo domani ore 15, stadio stirpe contro i padroni di casa. Ha parlato il mister Moreno Longo nella consueta analisi pre-partita, dandoci qualche spunto di riflessione per quanto riguarda lo stato d'avanzamento dei lavori, per così dire, della nostra squadra dopo l'ottima prestazione casalinga contro il Mattova. Ovviamente l'imperativo, anche se il Frosinone non navica in acque tranquille, anzi, probabilmente con l'acqua alla gola, quindi, insomma, si faranno vendere cara, molto cara, la propria pelle. Proprio perché Moreno Longo conosce l'ambiente, conosce quanto la squadra ciocciara possa tirarsi fuori da questo momento, momentaccio negativo. Noi, da parte nostra, dobbiamo andare consci, come dice lo stesso mister, delle nostre aspettative, del nostro lavoro, del nostro gruppo, di quello che stiamo attraversando, per così dire, il progetto, il percorso che il Bari sta attuando da quando è iniziato il campionato. Un percorso, ovviamente, fatto, come è stato nelle primissime giornate di qualche caduta, però la mano del mister si incomincia molto bene a vedere. Quindi, il gruppo deve andare unito, consapevole del fatto che può giocarsi alla pari la partita contro i gialloblu, portando, perché no, a casa anche l'intera posta in palio. Quindi, speriamo bene per questo approccio, come ha parlato lo stesso tecnico torinese, che è la cosa più importante in queste partite, perché, se lo sbagli, già contro squadre che, insomma, sono lì, pronte ad aggredirti, e comunque il Frosinone, come aveva detto Vivalini, sicuramente non può essere questo, anche per come è stata costruita la stessa rosa e per le ambizioni della squadra, sicuramente incontreremo una squadra dura, affamata, pronta a combattere. Ma come lo siamo noi e come chiede lo stesso mister. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbe ricalcare un po' tatticamente il light motive oramai creatosi con quel 3-5-2, con avanti appunto Falletti in appoggio alla prima punta, che può essere Lasagna. O può essere anche l'ex Novakovic, visto che domani è proprio la partita di tanti ex, a partire dagli stessi allenatori, Vivalini e Longo, a partire dal direttore sportivo, Angelozzi, più i giocatori, naturalmente Novakovic, uno su tutti, Maiello, che ha recuperato, un dubbio, ecco, il dubbio che può essere a lungo andare, un dubbio tattico da parte del, e ne ha parlato anche Longo in conferenza stampa, quello di Sibilli, proprio perché, chiaramente, giocando col 3-5-2, adesso trovare una collocazione al trequartista, perché non si gioca praticamente col trequartista e le due punte, ma con due mediani e un centrocampo a tre, come ha detto in conferenza il nostro mister. Quindi, a volte, naturalmente, può essere anche una squadra camaleontica, quindi in grado di cambiare il proprio assetto a gare in corso, però, comunque, l'idea, che era quella, appunto, che un po' tutti quanti noi auspicavamo ad inizio campionato, era quella di rafforzare un centrocampo che inizialmente, soprattutto nelle partite contro Juve Stabia in casa e Modena, quindi anche quelle due sconfitte iniziali, era abbastanza leggerino. Quindi, dubbi di formazione non ci dovrebbero essere, dovrebbe essere più o meno la stessa formazione proposta contro il Mantua in casa. Simic ha recuperato dai fastidi al ginocchio, quindi si sta allenando a pieno regime con gruppo, Maiello, come ho detto prima, è recuperato, e quindi, alla fine, l'unico ad essere indisponibile è il solo difensore Matino. Quindi, ragazzi, speriamo bene, io spero soprattutto in un'ottima partita del collettivo della squadra, perché dobbiamo crescere molto come collettivo, senza tralasciare, ovviamente, la tecnica e le occasioni pericolose che possono derivare dai giocatori con maggior talento, uno su tutti, falletti, ma non solo, ma comunque andare a colpire pesantemente anche sui calci piazzati, visto che abbiamo iniziato a martellare questo tema tattico, e lo ha detto, lo ha detto anche ieri alla stampa Mr. Moreno Longo. All'inizio si faceva un po' più fatica, però adesso si stanno vedendo un po' i frutti del lavoro settimanale che stanno facendo sul gioco aereo, ma in generale sui calci piazzati, dove possono arrivare tantissime occasioni da rete, e come lo sono state appunto quelle nell'ultima partita casalinga, vittoriosa contro i Lombardi del Mantova. Detto questo, io vi auguro buon sabato, buon weekend a questo punto, appuntamento a domani, vi dia caldo post partita di Frosinone e Bari, sempre a lei, la Bari a lei, mi raccomando, speriamo che i ragazzi non sbaglino l'approccio. Ciao a tutti e ancora buon weekend, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanella e buon dibattito nei commenti. Al video a caldo di domani post partita. Ciao da Barba Bianco Rosso.